ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri orologi e diamo un'occhiata ai vostri orologi almeno ci divertiamo un pochino guardando qualche novità qualcosa di poco visto qualcosa di stravisto è un insieme un pur purri di orologi che d'altronde ognuno segue il proprio gusto a volte il gusto è un po mainstream no ma anche quando si parla di orologi costosi tipo sempre i soliti rolex o i soliti no quando c'è odemore piguet e c'è il royal hook è difficile vedere qualcosa di differente da quello lì no ci sono quei orologi rappresentativi di marchi che battono 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 lo speed master per esempio va bene comunque ci accontentiamo sempre sperando di trovare qualcosa qualche spunto per poi sfamare la nostra amica scimmietta che si trova qua ora lei è anche invisibile cioè nel senso che quando ci sono le persone si rende invisibile e non si fa trovare non la voi non la vedete ma c'è la vita ognuno ce l'ha e salta fuori quando siete solamente da te e lei allora lei vede gli orologi e vuole la nocciolina la nocciolina la vuole la vuole la vuole per forza e ti devi comprare l'orologio per dargli la nocciolina lei non gli basta vedere cioè se ora la mia scimmietta si mette qua a guardare non gli basta mica non gli basta non gli basta l'orologio del giorno oggi è questo bellissimo cartier santos a 40 mm di diametro cassa 40 scarsi 38 9 non mi ricordo c'è la recensione lì andate a vedere tutti i dati con il suo bellissimo calibro in house quadrangolare che fa pandan con la t-shirt proprio è il manuale della persona elegante dice cauti e santos cauti e santos e t-shirt con i disegni da bambino davanti è proprio è proprio il manuale bando discorsi inutili dai su adesso diamo un colpetto alla barra spaziatrice e vediamo un pochino se riesce a sfamarci ciao davide io sono anita e col mio papà ti seguiamo sempre e oggi non sarà lui ma sarò io a farti vedere la collezione però dei suoi eroraggi vai vai anita allora vai anita questo è un orologio che a papà li piace molto perché c'è la doppia corona e lo rende più particolare brava brava secondo me ha perso un po di carattere rispetto ai modelli nuovi sono migliori però la doppia corona ma con lo rendiva più bello ma con poi questo mi piace perché è molto legibile molto ottimo da usare tutti i giorni è molto versatile è molto versatile questo invece papà questo invece quello elegante è quello elegante che preferisce mettere sotto la giacca quando da qualche occasione anche tutti i giorni a volte dipende come gira questo invece è uno spinnaker perché l'abbiamo scelto a parte il colore verde perché ha l'arancetta dei secondi distante da quelle delle ore cioè cammina per conto suo cammina per conto suo abbiamo un altro piccolo difetto che la data che la data non è molto leggibile perfetto però la satinatura e le definiture sono buono sono molto belli per il prezzo dell'orologio questo invece ci serviva niente perché perché ci serviva della elezione un orologio che aveva la ricarica la riserva di carica questo è sempre un oriente però ha una si percepisce una costruzione maggiore migliore più più massicce più che maggiore rispetto agli altri che ho in suito in collezione a questo qui che è il più il più grande il più grande ok questo è un 45 limiti di diametro ho mai visto questo si chiama orient excursionist e forse il gmt più economico della storia anche se definire lo gmt puro non credo non sia il caso perché la lancetta gmt si muove sulla scala delle 24 ore rispetto a quella delle 12 delle ore quindi non abbiamo la possibilità di muoverla in maniera autonoma questo invece che soddisfazione a papà perché abbiamo cercato la soddisfazione che è da papà che quasi il tuo preferito in questa collezione e che l'ha cercato per moltissimi anni e finalmente l'ha trovato questo orologio l'ho visto indossato al posto di un amico siccome è un orologio che non fanno più da tanto tempo ci ho messo un po per trovarlo ovviamente acquistarlo al giusto prezzo senza pagarlo più del necessario la legibilità anche il suo cinturino originale però l'estate lo uso con questo qui un po più fresco anche un po più un po più chiaro un po più vivace come colore un po più qui invece lo conosciamo anche tutti serviva in collezione una cassa cuscino per differenziare questo invece papà che cosa l'ha fatto ha fatto delle piccole ammaccature qui abbiamo ammaccato la ghiera pazienza poco male lo faremo riparare questo invece è un orologio che so che tu non apprezzi tantissimo però è lo a me piace molto lo indosso con con goduria e credo che anche queste spallette lo rendano molto distintivo un segno molto distintivo dell'orologio qua invece questa papà è più un gioiello vero c'è delle rifiniture fantastiche però però da quali da alcuni punti punti di luce non si vede bene no perché non è molto leggibile questo quadrante rosè è tutto lo stesso colore quindi magari non in tutte le condizioni si riesce a leggere bene l'orologio a colpo d'occhio infatti io ce l'ho avrei mai scelto ma non è l'unico orologio che è perché ho visto che c'è il conquest lì che è bianco con le sfere bianche il l'emilton di forma e bianco con le sfere chiare non mi sembra che va di molto la leggibilità dell'orologio altrimenti non li avresti scelti io quello lì l'icon rosè non lo avrei mai scelto proprio per quel motivo lì quando avevo quello blu o quello verde oppure il venturer blu e si leggevano benissimo fa veramente contrasto questo qua come magari quello bianco credo quello bianco non non ce l'ho presente ma e sono difficili da leggere e poi c'è questo è quello per il mare questo è quello per il mare questo è uno degli orologi di passaggio io solitamente tendo a prendere un lorenz in collezione in questo caso li ho modificato fatto modificare dall'orologio lancette e in sartoghiera ho fatto mettere in ceramica lo uso per il mare poi via lo vendo lo vendi forse quest'anno è la seconda stagione che romane con me e questo è l'ultimo arrivato cosa è di forma che di forma rettangolare questo è un bon merci è un son ha un cinturino molto particolare in concordillo ripiegabile che io non uso non uso tantissimo perché gli ho montato questo cinturino qui per renderlo un po più un po più sportivo visto che lo uso ma quotidianamente dopo il cinturino pieghevole a me piace portare l'orologio molto stretto quindi tende un po alcune volte a sganciarsi nella quotidianità quotidianità grazie spero che questa volta tu pubblichi il nostro video questa è la tovaglia mia moglie ci tiene a far vedere la tovaglia love love anche l'ultimo bon merci che hai mostrato anche quello lì la leggibilità è pari a zero veramente io a volte non capisco cioè boh vabbè io i quadranti bianchi chiari di scegliere se c'è un bel contrasto come per esempio l'onjinn spirit che quadrante bianco e però c'è i numeri a contrasto che si leggono bene 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 in questo caso 4 e 4 orologi con quadrante bianco e le sfere metallizzate che proprio va amarengo e poi quel suo buon merci rettangolare quel cinturino lì così veramente vintage sportivo ma non ci sta per niente bene secondo me lì ci starebbe bene un un coccodrillo o un pelle liscio completamente no vabbè comunque gusti sono gusti è quello io ho detto la mia per il resto tutti i orologi degni di nota che mi è piaciuto l'orient triton e poi l'orient gmt che non ho mai visto in vita mia la prima volta che lo vedo bravo per averci fatto vedere qualcosa di nuovo e non ho ben capito come funzionano le sfere da quello che ho capito si muovono tutte e tre insieme poi devi fare la regolazione del fuso orario tramite la corona la ghiera e basta ma ci sta c'è anche un vostro che ha questo sistema qua cioè non è un vero gmt con per il calibro ma semplicemente utilizzando la ghiera agirevola per me non è un minus per me ha senso a meno che non si voglia veramente la complicazione nel calibro allora è un altro discorso ma se no se uno gli serve leggere secondo fuso orario se è funzionale se si legge basta la ghiera boh perché quale il problema perché andare le cose semplici sono le migliori no come si suol dire dai un bel set della collezione te lo do volentieri perché fatta tutta da medium da pezzi medi però cioè ricercati nel senso anche anche molti di questi orologi qua non sono visti non si vedono mai nelle collezioni d'albume mercier oppure anche l'emilton di forma un bel set te lo sei meritato saluti anita grazie per averci aiutato nella spiegazione aspetta un altro video ciao davide sono stefano e vorrei condividere con te gli amici del canale la mia piccola collezione collezione di rollo e questo lo sapevamo già diamo un'occhiatina perché te ci hai messo le cosine qua per farci capire qualcosa per lanciarci un messaggio e noi cerchiamo di recepire questo messaggio sono tutti libri sull'architettura praticamente anche abbastanza auto ironici l'architettura non è un martini gli architetti dovrebbero ammazzarli da piccoli quindi o odi gli architetti oppure sei un architetto e ti piace anche prenderti poco sul serio o sei anche appassionato di architettura e quindi leggi dei libri alternativi che fino a gennaio di quest'anno l'età di 34 anni non ho mai indesato un orologio al polso e sicuramente la cosa è dovuta anche agli orologi che avevo sino ad allora facciamo così io li metto tutti insieme così mi dai un unico grande c'ho fake alert di questo addirittura non ho neanche avuto il coraggio di togliere il cartellino questo è un morellato morellato fa anche gli orologi morellato un gas via via c'è da dire però che un orologio che si distingueva da tutti in realtà lo avevo si tratta di questo tagoer acqua racer da 38 mm 38 accidenti fondello chiuso fondello lamierino la chiusura questo orologio regalato a mio padre nel 2005 2006 ma lui assolutamente non amante degli orologi me lo regalo subito ma purtroppo in famiglia c'era la convinzione che questo orologio potesse prendere valore nel tempo e quindi non ho avuto la libertà di indossarlo ed è rimasto 19 anni in cassaforte fino a quando ho deciso di tirarlo fuori è fatto iniziare a godermelo infatti poi a gennaio però l'ho mandato a fare una bella revisione in casa madre allora ho iniziato un attimo ad approfondire i movimenti e quant'altro questo si tratta di un calibro 5 che in realtà è un classico eta 28 24 elaborato devo dire che tiene molto bene il tempo perché ha uno scarto giornaliero di circa 6 secondi buono 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 bravo prima acquisto consapevole prima acquisto diciamo di testa mia un orologio che mi regalo da solo mi butto su un sito su iosa su iosa ok su iosa a quanto pare anche vedendo i video degli amici del canale ho scelto bene è un orologio decisamente valido valido va economico valido perfetto ad un mercatino scatta la scintilla per un vintage e cos'è una zenith questo zenith in ottimo stato me ne innamoro lo acquisto e questo orologio questo zenith è quello che mi ha fatto definitivamente appassionare all'orologeria agli orologi con con la costante ricerca di informazioni per cercare di capire il movimento studiarlo l'epoca di realizzazione le tecniche di realizzazione la ricerca di un orologiaio di fiducia che non avevo diverse notti insonni su vari siti di acquisti online e forum per cercare di recuperare la sua fibbietta originale ora non so se riesco a metterla a fuoco però questa fibbietta mi è costata un po di tempo di ricerca e la soddisfazione una volta concluso l'orologio una volta riportato al suo stato originale davvero tanta questo zenith e di fine anni settanta monta il calibro in house 2752 e devo dire che scarta davvero pochi secondi al giorno quindi lo indosso molto volentieri anche se è un diametro piccolo da 34 mm ecco vedi te sei l'esempio di una persona che sa sfruttare le situazioni nel senso che ti sei appassionato a febbraio cioè quanti mesi sono pochissimi mesi ma hai già capito come funziona nel senso che informarsi in autonomia studiare andare a leggere passare anche notti insonni in un forum per cercare di capire che calibro hai dentro perché per come la fibbietta la passione porta a questo a perdere a spendere del tempo che non è perso è guadagnato a spendere del tempo per imparare le cose è l'orologio che ti porta a cercare di studiare io prima che avessi comprato il login ultra quarts avevo solamente una vaga idea di cosa fosse una volta che l'ho preso ho approfondito ho approfondito e ho scoperto un mondo ho scoperto un mondo sono tutte poi nozioni che ti rimangono uguale hai fatto ti hai comprato prima l'orologio senza aver studiato prima cosa che non andrebbe fatto ma non lo fa nessuno tanto poi dopo ti sei messo a studiare a cercare di capire che calibro c'è dentro qual è la l'annata gli anni da il range in cui è stato costruito di anni a cercare la fibbietta capire un pochino di più no è questo e se è così poco tempo che se ti sei appassionato stai andando per la strada giusta è poco ma sicuro vedendo la nascita di questa mia passione mio padre mi dona il suo o l'ongine questo longin è stato regalato da mia madre a mio padre nel 1978 se si tratta di un placato mi piace comunque molto un bel significato lo terrò l'ho fatto revisionare e anche lui scarta davvero pochi secondi ed è carinissimo cosa riesco a farlo vedere che calibro non ce lo dici nel 78 lo stop dei secondi ad ore 12 perché questo orologio al calibro della record questo monte il calibro 6952 in house uno degli ultimi prodotti da longin con questa c'era anch'io un calibro un orologio con questo calibro qua ed è un calibro che non è in house è marchiato longin ma longin aveva comprato la record un'azienda che faceva calibri in house sembra strano ma è così e l'aveva rimarchiato con qualche modifica qua e là e c'è la particolarità che quando tu estrai la corona non si ferma subito la lancetta dei secondi attende e ti arriva al 12 puff e si ferma a ore 12 in modo che ti poi puoi sincronizzarlo con con gli altri orologi perché a cosa a cosa lo utilizziamo noi il fermo macchina noi cerchiamo di sincronizzare l'orologio in questione con un altro magari digitale no quindi aspettiamo cerchiamo di aspettare che la lancetta raggiunga al 12 per poi estrarre la corona e fermarla lì lui ci si ferma da solo in automatico secondo me è una figata gigantesca perché che io sappia è l'unico calibro per ora che ho visto che fa questo gioco qua poi non è più fatti perché no perché non farlo secondo me c'è il contro però che se te lo vuoi fermare per un qualsiasi motivo astruso la lancetta dei secondi sul 20 non puoi farlo forse questo qua è il contrario però per la maggior parte dei casi è il 12 quello giusto complicazione che a corona estratta porta la lancetta dei secondi a fermarsi a 12 12 interessante anche però ho passato diverso tempo per trovare la sua fibietta originale mio zio anche di appassionato di orologi vedendomi piuttosto euforico dello zen che ho stato prima ha deciso di regalarmi di donarmi questo bombersi trans pacific è un orologio degli anni 90 dove l'età si vede tutta anche se ha uno stile molto particolare monta un calibro eta 28 92 ovviamente elaborato da bonmercier più modulo cronografico dubois de prats come si vede da le corone la corona e i pulsanti cronografici di sassati quindi classica meccanica panino casa da 37 mm è comunque portabilissimo ma lo terrò per ricordo piuttosto anche qui comunque ho voluto cercare la sua fibietta originale per soddisfare questa mia necessità di cercare di completare il set il più possibile e me lo godo guardandolo piuttosto che indossandolo per il momento poi magari tra qualche anno diventerà un vintage ci sta ci sta ci sta assieme al bomber si mio zio mi ha regalato anche questo james ton american classic spirit of liberty spirit of liberty questo è un orologio un po più moderno da 42 mm classico però purtroppo la mancanza dei secondi effettivamente o forse perché è un difetto che a te da molto fastidio ho iniziato ad avere anche io questo fastidio questa necessità di avere i secondi però è un bel è un bel orologio molto portabile anche qui ho cercato ma questo è molto più facile da trovare il suo cinturino originale con la scritta without liberty life is misery o però chiusura di ployano cinturino originale emilton ci piace dai lo farò revisionare perché ha bisogno di una bella revisione sicuramente questo qui lo indosserò molto più volentieri rispetto al bomber si e infine un orologio che ho sempre visto con con curiosità e con piacere era l'emilton khaki field 38 a millimetri in versione nera con con bracciali in acciaio l'ho cercato per un po e al momento mi è in arrivo e quindi facciamo finta che sia qui dal vivo va bene per ora mi fermo qua io diciamo che ho cercato di creare una base di orologi di partenza un minimo di collezione base poi si vedrà come si evolverà nel tempo e come cambierà eventualmente la mia passione però come dici tu la scimmia purtroppo reclama grazie e un caro saluto un caro saluto dai un bel sei e mezzo te lo do ci sono quelle quattro ciuffecche invitabili all'inizio interessante poi vedere anche il tagoya acqua rester del 2006 che non me lo ricordavo e c'è il suo perché 38 mm c'è ancora qualcosa addosso degli anni 90 come stile però però ripeto quello che mi fa che mi fa che mi sorprende che in pochi mesi si è arrivato a parlare di calibro panino eta 28 92 col modulo incorporato le la corona disassata dai pulsanti insomma tutta una serie di nozioni che solamente uno che ha voglia di mettersi lì studiare imparare può avere in così poco tempo cioè per ogni orologio mi è saputo dire calibro sei andato a vedere cosa vuoi sapere cosa questo questo ti fa molto onore e sono contento di questo uno che non a cui non interessavano gli orologi che piano piano gli sono interessate adesso volevo dire una cosina simpatica niente che sei andato abbastanza tra i vintage è un altro seppeso te uno l'hai ricevuto in regalo e l'ascito anche possiamo considerare un secondo poi un secondo polso neo vintage anche acquaresse quindi c'è se abbastanza se abbastanza spaziando tra i vintage e moderni lo sui iosa e il cacchi fila dai stai andando bene non sono non voglio non voglio sbilanciarmi ma aspettiamo aspettiamo se tanto mi da tanto fra uno due anni saprei più di me ci vuol poco dicete però sono quasi convinto che ci siamo prossimo video ciao davide chiamo giulio ti mando questo video da roma roma 33 anni e colleziono da due abbondanti ma quasi tre buona parte di questi passati a seguire il tuo canale a prendere pessime idee per spendere soldi questi che ti faccio vedere adesso sono la mia collezione diciamo frutto di tutte acquisizioni c'è un solo l'ascito che adesso vediamo da vestire purtroppo su un polso piccolo 15 centimetri e mezzo quindi un po limitante nelle scelte che si possono essere possono essere fatte per una vestibilità armonica diciamo no questa è il l'ascito di cui ti parlavo è un zenith stellina in oro 18 carati full gold quindi anche il fondello primi anni 60 calibro manuale 25 32 fu il regalo di nozze che mia nonna fece a mio nonno io l'ho fatto rimettere a nuovo senza toccare le fioriture che cominciano a comparire sul quadrante ma l'ho fatto revisionare ho sostituito il vetro che era devastato recuperato la corona zenith originale coeva e stesso di casi per la fibietta per cui mi piace pensare che questo era l'aspetto che aveva quando lei lo regalò a lui in loro onore probabilmente sarà l'orologio che vestirò il giorno del mio del mio matrimonio poi ti faccio vedere l'omega constellation calibro 751 quindi complicazione dei date di quelle che avevano lo scatto rapido eccolo qua estrendo e reinserendo completamente la corona questo è un cosc e da revisionato rientra ancora nelle specifiche ora è una cosa che mi piace tanto è la cassa cuscino in questo modo qua con la lunetta zigrinata non si vedono tanti modelli no anche in quegli anni li andava andava molto di moda il day just quindi la lunetta zigrinata era uno di quegli elementi no da poter utilizzare nei vari orologi ma sulla cassa cuscino è vera fa veramente un bel panda è un bel constellation cosque così con questo quadrante con questa trama complimenti vivissimi la corona è d'oro rispetto alla cassa in acciaio il quadrante di quelli omega li chiama frosty dial insomma lavorazione linen esiste sia gold che silver con questa lavorazione vedi questa diciamo la tipicità del fondello corona e dial oro perché era un orologio che nasceva con cassa oro io per giocarci un po comprato un ricambio originale in acciaio omega e ogni tanto lo rincasso e lo rendo un pochino più leggero poi ti faccio vedere un brightling cronomat b 130 50.1 quarta quindi iterazione di questa serie b cioè b color cassa acciaio finitura in oro il 130 50.1 loro si conosce perché ha la b di brightling sulle sfere il logo che è in rilievo e non stampato e poi sul dial ci sono queste lavorazioni concentriche tridimensionali per cui ignoro francamente il nome mi ricordo però ci facciamo vedere l'emilton khaki field automatic il classico nulla da dire ce l'abbiamo praticamente tutti strap monster perché riesco a giocarci in ogni modo possibile immaginabile adesso uso questo nylon verde in stile militare ci sta ci sta rientro nella schiera di quelle persone che possono testimoniare di aver ricevuto un orologio con una regolazione di fabbrica praticamente da cost più un secondo al giorno sul cronocomparatore stesso più o meno genere di orologio anche se uso come every day eccolo qua il bianco l'oncine spirit da 37 mm l'ho scelto col dial champagne un colore un pochino più particolare champagne il plauso che faccio alloncine per questo orologio al di là ovviamente delle finiture ma tu ne hai parlato diffusamente e che nel fare il resizing rispetto all'orologio da 40 mm non solo hanno scelto di rastremare di più il bracciale ridurgli il passo ansa ma hanno anche ridotto le dimensioni della clasp e della scatoletta e questo lo rende uno confortevole perché ha un colso piccolo ripeto io ho 15 e mezzo due permette di mettere almeno una o due maglie in più sul bracciale restituendo un effetto molto più armonico al polso ok bravo ci piace poi seiko alpinist sarb 017 io ho avuto il prospects era impreciso e ho capito con quell'orologio di non amare le lenti magnificatrici e di non amare i fondelli a vista l'ho venduto ci ho messo qualcosa sopra perché su questi costicchiano e ho preso la versione giapponese quindi fondello chiuso con le montagne in finitura il vetro è piatto quindi non c'è la lente magnificatrice e il calibro ma questo immagino sia un caso perché un solo campione statisticamente non vale questo 6r 15 e non il 35 e prospects è molto più preciso ok quindi sono molto contento dell'upgrade airman questo è un tool watch a tutti gli effetti glycine airman purist 36 mm purist quindi fa il giro completo sulle 24 ore è un orologio in questa è la limite da mille pezzi mondo del 2017 diventato un po difficile a trovare va sold out subito comunque questa versione se la litigano abbastanza nelle aste io sono molto contento di possederlo al netto dell'impermeabilità dichiarata di un'atmosfera insomma si ha paura a farglielo vedere anche solo in foto l'acqua per cui non mi sono mai messo a fare esperimenti ecco cerco di tenerlo da conto per questo motivo guarda la prima volta non lo sapevo sono ignoranti sul fatto sui glycine airman le varie tipologie proprio veramente un'atmosfera la prima volta che lo sento dire veramente è dichiarato per una atmosfera perché io pensavo nella mia ignoranza che tre atmosfere insomma basta costruirlo assemblarlo come si deve e li re e qualsiasi orologio regge tre atmosfere no e mi viene a dire una atmosfera cosa c'è un'atmosfera dove è la pressione che c'è a livello del mare cioè subito così truff puff tu c'entra la polvere dentro fa d'aspirapolvere ma che ne so io sei sicuri boh i diver o uno blu e uno è nero la scelta su blu è caduta sul mido ocean star tribute io ho preso la limited 200 pezzi italia perché rispetto al tribute il quadrante vedi è più pulito c'è solo la complicazione data non c'è il giorno lo preferisco il bracciale ne abbiamo parlato tutti non erano ancora usciti al momento del mio acquisto quelli nuovi con con la satinatura quindi questa finitura lucida per quanto attiri i graffi anche solo a guardarla è bello quelli da quel tono un po certo sbrilluccicoso ci piace ci piace che su un diver lo rende anche un pochino più elegante un pochino meno sportivo anche qua facciamo lo stesso discorso l'abbiamo fatto per l'emilton e la regolazione di fabbrica è praticamente da kosk il calibro è quello tudor black bay 58 molto pino c'era lui è l'orologio su scelto di destinare la maggior no il maggior budget rispetto agli altri ma è stato amore a prima vista ce l'hanno ormai praticamente tutti ma non per questo desistito dal farlo mio trovo che abbia una portabilità e una versatilità veramente straordinari c'è anche il 54 adesso brevemente ti faccio vedere tre quarzi io non disdegno portarlo uso come every day o per la palestra c'è chi va con lo speed master tipo te io non me la sento prospects psycho prospects speed timer a carica solare questa è una limite d'argentè che ho preso da giacomo ci piace ci piace un tisso prx da 35 mm preso consapevolmente perché possedevo l'automatico da 40 mm era decisamente sbilanzato sul mio polso e invece con questo mi mi sento molto più a mio agio e come every day è praticamente perfetto e poi e poi da ultimo l'orologio del giorno che si vede forse forse mai visto sul canale è un nivada chronoking in edizione limitata un mecca quartz con queste finiture arancioni che lo rendono sicuramente un pochino più particolare davide io non ho domande per te ti ringrazio per lo spazio se pubblicherai questo video e per la compagnia che ci tiene ogni volta che ne posti uno e la sera io con la mia ragazza ci mettiamo a volte un'oretta di spensieratezza un saluto a te che a tutta la comunità con la tua ragazza che io faccio sempre sortisco sempre un certo effetto sulle ragazze altrui quindi mi raccomando guardatemi ma è un bellotto ti do guarda il voto più alto di oggi perché secondo me sì perché ti voglio dare 8 che degli orologi di tutto rispetto rispetto all'ambito nei quali sono stati scelti arzigogolato ragionamento ma che ha un suo fondamento nel senso è una cosa che non ho capito proprio che non è che non ho capito che non ti appoggio che non comprendo è il fatto di avere l'omega constellation vintage con la cassa d'oro e te lo smonti ci metti la cassa d'acciaio così rimane una corona non ho capito questa cosa qua non non la provo se posso essere sincero un orologio secondo me va lasciato specie vintage va lasciato originale non rincassato in un acciaio cosa fai sta a smontare e rimontare ogni volta ogni volta che smonti e rimonti può essere fonte di guasto di vabbè comunque poi c'è un bel bright ring cronomat anche se tutto bianco non è il massimo però bello il tudor black bay longe spirit un sacco di belli orologi lotto te lo meriti non ho capito perché scelto separato con il discorso del posto da 15 che veramente molto piccolo e poi scelto il black bay 58 che è 39 quando c'è il black bay 54 che è 37 magari potevi buttarti su quello oppure proprio è veramente troppo piccolo anche per i polsi piccoli perché cioè non è che se uno al polso piccolo di tutti gli orologi devono essere scalati per il polso perché una certa tipologia di orologio troppo rimpicciolita poi dopo perde il suo senso di esistere un diver ad esempio anche un cronografo un minimo di presenza al polso devono avere comunque complimenti perché due tre anni che hai detto hai fatto anche dei dei movimenti nel senso di hai rivenduto il secco per prendere poi l'alpinist che più carino questo poco poco ma sicuro col fondello chiuso così ci piace tanto è bravo ci piace da niente ragazzi un bel bel lotto te l'ho dato quindi diciamo che siamo giunti al termine della puntatona io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero che la vostra scimmietta amica sulla spalla inizia a trovare lo spunto per richiedere una nocciolina aggiuntiva una nocciolina kosk se così non fosse vuol dire che la scimmietta è ammalata perché si ammalano anche le scimmiette quando la scimmietta è ammalata ti accorgi che te non vuoi più comprare orologi ma perché non interessa più nessun orologio poi fai due più due dici ma sarà mica ammalata lei ti giri la vedi che è un po giù di morale allora gli devi dare un pochino di le medicine quelle che non piglia tanta gente le medicine gli dai e lei si rinvigorisce e ti dà gli orologi e via così ragazzi vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi sia piaciuto il video il video il presentatore la scimmietta e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube e vi ricordo il video il video il video il video il video